Ben tornato Goodyear, ben tornata. Terminiamo la descrizione della posta elettronica. Dopo aver teorizzato sugli invii multipli, prova a passare all'azione. Fai questo test. Organizza una mini catena tra i tuoi vari indirizzi mail, quindi tra i tuoi conoscenti, e organizzala insieme a dei tuoi amici. Crea un messaggio di prova, ad esempio con dei saluti, inoltralo con il loro aiuto, seguendo lo schema che adesso ti rappresento. In pratica, in questo schema, ogni computer rappresenta un tuo amico o una tua amica. Tu sei il computer indicato con la lettera A. Invierai una email con un determinato testo di saluti ad un tuo amico chiamato B e ad un altro amico chiamato C. A sua volta C dovrà inoltrare lo stesso messaggio, senza alterarlo, ad un altro suo amico D. e a sua volta la catena avrà termine con un invio dello stesso messaggio ad altri due utenti indicati con le lettere E ed F e a sua volta F lo invierà ad altri suoi due amici indicati con le lettere G ed H. Cosa accadrà al termine? Che il messaggio che avranno ricevuto i tuoi amici indicati con le lettere G ed H conterrà al loro interno non soltanto gli indirizzi email rispettivi ma anche tutti gli altri indirizzi email della catena che le ha preceduti fin anche A e B. Prova a farti inoltrare a riguardo l'email o dal tuo amico che possiede il computer G o d'H. Hai capito ora perché è fondamentale essere conoscitori, accorti di come funzionano le cose? Per evitare spiacevoli sorprese. E' ovvio che tale procedura non è seguita alla lettera da tutti ma qui si gioca sui numeri, su dei grandi numeri se siamo di fronte ad una catena Più è alto il numero di persone coinvolte maggiori sono le possibilità di ottenere gli scopi di un malintenzionato Quando riceverai quindi un email tipo catena prova a leggere il testo e scorri lungo tutta l'email, lungo tutto il messaggio noterai che se ha subito diversi inoltri troverai una lista ampia di indirizzi email Terminando la tua prossima spedizione multipla dovrai effettuarla sempre inserendo tutti gli indirizzi email che vuoi nel campo definito CCN Mi raccomando, condividi Tutta la procedura di lettura ed invio che abbiamo visto nella lezione precedente ed in questa è replicabile utilizzando un programma chiamato Client di posta elettronica che installerai sul tuo sistema operativo quindi l'alternativa alla visione di un messaggio all'interno del sito del provider Alcuni programmi per la cronaca potranno essere Windows Live Mail Mozilla Thunderbird Hotlook della Suite Office Opera Opera Browser al cui interno ha anche un Client di posta elettronica ma ce ne sono molti altri A mio modo di vedere questa è la soluzione più comoda e più rapida in quanto una volta che avrai configurato il programma di posta elettronica nel quale troverai un pulsante che più o meno ha questa denominazione impostazioni account una volta configurato l'account di posta elettronica con uno o più indirizzi email ti sarà possibile visionare ed inviare i tuoi messaggi di posta elettronica semplicemente aprendo il programma che avrai installato immediatamente al suo avvio si presenteranno i messaggi che avrai ricevuto e li potrai leggere uno sequenziale all'altro e archiviare per una migliore visione oppure rispondere agli stessi direttamente dal programma di posta elettronica e soprattutto sottolineo senza andare ad individuare i messaggi per tutti i provider che hai utilizzato per creare N indirizzi di posta elettronica una ipotetica configurazione di questo programma che ho utilizzato negli screenshot è Mozilla Thunderbird che durante una procedura guidata ho scelto di selezionare la posta del sito decudri.com quindi con l'indirizzo di posta elettronica info chioccio decudri.com dicevo durante la procedura guidata dovrai inserire alcuni parametri di tua competenza altri che in questo caso specifico evidenzia automaticamente la procedura di posta elettronica che sono il tipo di protocollo in entrata e in uscita con le relative porte ed eventuali cifratura per l'identificazione parametri che se non fossero evidenziati in maniera automatica dal client di posta elettronica che utilizzerai potrai individuarli tranquillamente nel sito del fornitore dei servizi ossia quello da cui hai generato il tuo indirizzo di posta elettronica infatti nella zona di supporto assistenza troverai come configurare e lo puoi cercare tranquillamente dicevo troverai come configurare gli indirizzi di posta elettronica qualora dovessi utilizzare un client di posta elettronica ossia un programma di gestione di ricezione ed invio di posta elettronica quando avrai terminato di solito se il programma di posta elettronica lo permette ti conviene esportare la configurazione che hai visto nella slide precedente il modo da salvare in un file tutte le configurazioni che avrai inserito all'interno del programma di posta elettronica cosicché se dovrai installare questi parametri all'interno di un altro computer oppure dopo una reinstallazione del sistema operativo ti sarà molto molto più rapido il settaccio qualora il programma lo prevedesse infatti troverai dei pulsanti per importare ed esportare le impostazioni del tuo account di posta elettronica una volta che l'avrai configurato potrai leggere come detto tutti i messaggi in sequenza uno dietro l'altro andando ad individuare la cartella della posta in arrivo potrai leggerli cancellarli archiviarli etichettarli a tuo piacere troverai anche altre cartelle che saranno popolate di volta in volta in base all'uso del programma di posta elettronica per scrivere un'email dovrai cliccare sul pulsante scrivi o scrivi messaggio a secondo del client di posta elettronica si aprirà una nuova finestra nella quale dovrai compilare nel campo relativo l'indirizzo del destinatario nella sezione oggetto compilerai il tipo di messaggio quindi cosa conterrà il messaggio e nella zona del testo nella zona centrale quindi nell'editor del messaggio di posta elettronica scriverai il tuo messaggio dopodiché cliccando su invia si avvierà una procedura automatica che invierà il messaggio di posta elettronica tramite il provider direttamente al destinatario potrai anche allegare uno o più file al messaggio clicca sul pulsante allega si apre un menu che si può differenziare da programma a programma comunque di norma vai a cliccare sul pulsante file si aprirà e esplora risorse nel quale dovrai individuare il file o i file che dovrai inviare verrà caricato questo file all'interno del messaggio che dovrai inviare esiste però un limite in termini di pesantezza per gli allegati di posta elettronica tuttavia per file molto corposi potrai utilizzare o le funzioni aggiuntive per l'invio di file di grosse dimensioni opzioni che sono messe a disposizione proprio sul sito del fornitore di servizi o in alternativa potrai utilizzare altri programmi altri siti che sono dedicati per l'invio di messaggi contenenti file molto corposi all'atto della configurazione del programma in alcuni casi potrai trovare l'opportunità di selezionare o meno una casella che ti permetterà di mantenere una copia dei messaggi anche sul server oppure cancellarli una volta scaricati sul tuo pc a te la scelta qualora fosse presente questa funzione di selezionare o deselezionare questa opzione ricorda che nel caso in cui vengono scaricati sul tuo pc e cancellati sul provider non ne avrai più una copia per cui se hai la necessità di mantenere per un backup alcuni messaggi che ritieni importanti dovrai fartene una copia o esportarli sempre tramite il programma di posta elettronica quindi in sintesi con un programma un client di posta elettronica potrai ricevere e scaricare la posta da diversi provider da diversi fornitori di servizi di indirizzo email ma alcuni provider però potrebbero anche impedirti la consultazione tramite client di posta elettronica a meno che tu non abbia un servizio di traffico dati e voci proprio con quel rispettivo provider la soluzione in questo caso è consultare naturalmente le email tramite il sito del fornitore di servizio oppure sfruttando dei filtri direttamente dal sito del provider che permetteranno di reindirizzare tutti i messaggi di quel provider che limita la lettura verso un altro account che avrai magari configurato proprio nel tuo client di posta elettronica in pratica è come se tu eseguissi una deviazione di messaggi come accade per le chiamate di traffico voci una deviazione di chiamata applicata ai messaggi come hai visto nella lezione precedente nel sito del provider trovi una cartella che etichetta alcuni messaggi come spam come posta indesiderata bene la stessa cartella è anche presente all'interno del programma di posta elettronica ogni provider ha un proprio database dinamico che aggiorna la lista di emittenti che con il tempo sono stati considerati più o meno correttamente come spam come posta indesiderata l'etichetta di spam viene attaccata ai server o ai emittenti che continuano ad inviare avvalanca e spesso senza essere stati esplicitamente richiesti dal destinatario questi messaggi e mail inutili a scopi pubblicitari o anche per richiesta di contatti sono altresì derivati in alcuni casi dall'ignobile mercato basato proprio sulla vendita di indirizzi e mail che poi viene anche utilizzato per scopi ben più malefici dell'invio di messaggi fastidiosi sfruttando delle catene che ti ho proprio evidenziato all'inizio di questa lezione se ricevi un messaggio che non ritieni lecito in quanto non derivato dalle tue scelte esplicite lo puoi etichettare come spam etichettando il mittente o il server come spam come posta indesiderata sarà sufficiente dopo aver selezionato le mail che hai ricevuto cliccare su un pulsante denominato come segnala il mittente o il server come spam o cose simili e confermare questa tua scelta il messaggio sarà subito etichettato come posta indesiderata se in seguito riceverai un'altra mail dallo stesso omittente dallo stesso provider sarà automaticamente dirottata verso la casella della posta indesiderata questo processo è anche reversibile quindi se eventualmente hai commesso un errore puoi eliminarlo tranquillamente potresti anche ricevere un messaggio che impropriamente viene inserito nella posta indesiderata pur se non è effettivamente spam a questo punto dopo aver cliccato sul pulsante per selezionare quella specifica email cliccherai sul pulsante che definisce questo mittente questo provider come non spam e di gioco è fatto quindi lo ritroverai nella tua posta in arrivo come tutti gli altri messaggi normalmente autorizzati ad essere ricevuti da te a contorno ricorda una cosa a volte firmiamo o accettiamo con una certa superficialità o in alcuni casi per necessità che il fornitore di servizi online oppure offline nella vita reale ci possa inviare comunicazioni di carattere commerciale oppure che esso possa fornire a terze parti le nostre generalità e i nostri indirizzi email beh questa a volte è la naturale conseguenza di questa nostra azione il guaglio è che in alcuni casi non possiamo proprio rifiutare tale imposizione in quanto ne verrebbe meno il servizio al quale dovremmo accedere quindi lo spam in definitiva ce lo beccheremo per forza di cose la contromisura è che dobbiamo conviverci con coscienza e conoscenza alla domanda se puoi crearti indirizzi email diversi naturalmente già sostanzialmente tra le righe ho risposto certo che sì anzi credo che sia proprio consigliabile se non addirittura necessario perché visto quanto descritto per lo spam direi che ha buon senso creare diversi indirizzi email in base all'uso che ne farai mi spiego puoi crearti un indirizzo email per lo scambio di email con la tua cerca di amicizie uno ancora per la registrazione ai vari social network e un altro magari per la registrazione ai vari servizi diciamo così a carattere commerciale infine uno lo puoi utilizzare per dare impasto al mondo internet quello che magari potrai più utilizzare in maniera esposta e con una certa leggerezza per varie attività su internet tipo ad esempio i giochi i concorsi o cose del genere così avrai un'efficienza maggiore in quanto verosimilmente potrai incanalare tutto lo spam quasi certamente solo verso quest'ultimo indirizzo email quando diventerà insopportabile per l'eccessivo numero di spam che riceverai in maniera quotidiana lo potrai abbandonare al suo destino e crearne un altro ora delle opzioni che devi assolutamente conoscere per cultura personale per quel che riguarda la creazione indirizzi email devo dirti che esiste la possibilità di creare indirizzi email pienamente funzionanti ma che rimangono attivi per un determinato tempo dopodiché cessano di esistere esistono indirizzi email che permettono di inviare messaggi che si autodistruggono quindi cancellano dopo la lettura del destinatario esistono servizi che ti permettono di inviare email in maniera del tutto anonima quindi senza risalire al mittente oppure servizi che ti permettono di creare caselli di post elettronica virtuale in sola ricezione che potrai utilizzare come filtro oppure potrai inviare email figgendoti come un altro mittente inventando di sana pianta un indirizzo email anche simpatico e molto molto altro ancora ti puoi fare una scorpacciata aprendo un motore di ricerca ed eseguendo una ricerca scusa la ripetizione all'interno del campo dedicato sfruttando parole chiave del tipo indirizzi email temporanei o inviare email anonime nel sito free online a questo indirizzo o a quest'altro url troverai già una bella overdose di siti che ti mettono a disposizione di servizi per rimanere nell'anonimato o ricevere messaggi senza rischiare grosso invece in questi altri siti potrai trovare dei pulsanti che ti permetteranno di inviare messaggi di posta elettronica in maniera totalmente anonima infine ti cito un articolo zeppo di informazioni e una tabella comparativa creato da un grandissimo personaggio del mondo informatico che tra l'altro ti stimola a seguire per rimanere all'avanguardia in questo mondo si chiama Robin Good che a dispetto del nome è italianissimo e il sito che mette a disposizione moltissimo materiale di valore è Master New Media proprio a questa URL potrai trovare una corposa descrizione in relazione agli indirizzi di posta elettronica temporanei altra cosa che sta prendendo sempre più forma è la posta certificata che cos'è? è come se tu dovessi inviare una lettera rendendola raccomandata o tramite fax in pratica ha carattere ufficiale e puoi ottenere informazioni direttamente dal sito governativo sulla posta certificata e addirittura all'interno dello stesso sito una guida specifica tra l'altro eseguendo una ricerca con parole chiave del tipo posta certificata potrai diventare un professionista didattico per l'enorme letteratura e servizi da parte di provider che forniscono tale possibilità la posta certificata in pratica come dice la parola stessa certifica la trasmissione e la ricezione di un messaggio che ha valore legale ora termino questa mini enciclopedia informandovi che esistono sistemi di messaggistica istantanea chiamati chat ne avrai sentito nominare accedendo ad un sito o ad un forum che parla di un determinato argomento più o meno importante ti potrà capitare che lo stesso sito nello stesso forum potrai avere accesso a quella che viene definita stanza di chat che ti permette di inviare messaggi istantanei a coloro che stanno accedendo in quel dato momento alla stanza per la chat dovrai naturalmente registrarti e nella zona dedicata alla chat potrai entrare anche tu nel merito della discussione in tempo reale scrivendo la tua opinione e attendendo la risposta di altri utenti te ne cito uno che è riferito alla comunità di libero a questo indirizzo URL allora goodlier vediamo come scaricare installare e configurare un client di posta elettronica per poter consultare ed inviare delle email direttamente sul tuo computer senza accedere allo spazio web del sito del provider supponiamo di voler scaricare il programma di posta elettronica Thunderbird di Mozilla dal motore di ricerca scriviamo appunto Thunderbird ed andiamo a individuare il programma per il download quindi accedendo al sito relativo c'è un bel pulsantone che dovremo premere per il download dopo qualche secondo si avvierà il processo di download cliccando su salva individueremo una cartella ad esempio sul desktop cliccando su salva partirà il download del programma dopo un brevissimo tempo il programma sarà stato scaricato e in questo caso specifico cliccando due volte rapidamente sul file eseguibile si avvierà la procedura di installazione questa è la prima schermata di benvenuto clicchiamo sicuramente su avanti eseguiamo un'installazione personalizzata qui potrai decidere se utilizzare Thunderbit come programma di posta elettronica predefinito qualora ne avessi più di uno a te la scelta se utilizzare questa selezione o no procediamo nell'installazione cliccando su avanti di nuovo clicchiamo su questo stesso pulsante questa schermata ci chiede se selezionando o meno questo segno di spunta avremo la notifica qualora verrà fornita una nuova versione di questo programma direi di poter lasciare senza altro selezionato questo segno di spunta e proseguiamo nell'installazione qui abbiamo la possibilità di scegliere se creare un collegamento sulla barra di avvio veloce per intenderci la barra delle applicazioni qui in basso oppure eventualmente inserire anche un collegamento all'interno di una cartella del menu start ed eventualmente ancora far visionare un collegamento sul desktop possiamo tranquillamente togliere questi due e lasciarne magari uno solo ma comunque a della scelta di quale selezionare qui abbiamo evidenziato dove verrà ad essere installato il programma Thunderbit clicchiamo infine su installa per avviare il processo di installazione a questo punto il processo di installazione è terminato cliccando su fine e lasciando questo segno di rispunta si avvierà automaticamente il programma Thunderbit nella schermata principale abbiamo dei pulsanti ovviamente in questo caso specifico non è ancora configurato le impostazioni per ricevere posta elettronica ed inviare email da questo programma quindi clicchiamo pure su crea nuovo account in questo caso specifico possiamo saltare i suggerimenti che ci fornisce il programma e quindi clicchiamo sul pulsante salta questo passaggio ora si tratta di eseguire una procedura di configurazione inserendo i parametri che avrai utilizzato durante la creazione del tuo indirizzo di posta elettronica presso il provider e selezionare alcuni parametri per la ricezione e la trasmissione quindi l'invio di email da questo programma riprendendo la lezione precedente impostiamo i parametri relativi all'indirizzo di posta elettronica del sito thegoodly.com quindi scriverò il mio nome poi l'indirizzo email che ricordo è info chiocciola thegoodly.com la password che avrò registrato in fase di accesso e possiamo cliccare tranquillamente sul pulsante continua una procedura guidata attualmente cercherà di selezionare dei parametri direttamente dal provider in questo caso automaticamente il programma Thunderbird ha individuato i parametri che saranno utili per la creazione di questo account riposta elettronica all'interno del programma altrimenti qualora non li trovasse sarà sufficiente cliccare sul pulsante configurazione manuale e qui dovrai inserire manualmente tu i parametri che avrai individuato direttamente all'interno del sito del fornitore di servizi a cui ti sei rivolto per creare il tuo indirizzo riposta elettronica ricordo c'è una zona dedicata alla configurazione degli account in base al fornitore di servizi tornando in questa pagina delle impostazioni clicchiamo sul pulsante fatto per terminare la configurazione una volta eseguita questa configurazione come puoi vedere avrai accesso ad una cartella che sarà stata creata all'interno del programma e la quale ti permetterà di visionare la posta in arrivo sarà sufficiente a questo punto cliccare su leggi messaggi per poterli scaricare sul computer ti faccio notare brevemente che nella barra di menu c'è un pulsante strumenti che ti permetterà di accedere ad altre opzioni che sono relativi proprio alle impostazioni dell'account cliccandoci sopra potrai cambiare eventualmente ottimizzare la gestione di questo account in base alle tue scelte e in base alle conoscenze che man mano acquisirai qui in basso hai un pulsante che ti permetterà di eliminare o aggiungere nuovi account di posta elettronica cosa che tra l'altro puoi replicare cliccando su questo pulsante e aggiungendo altri indirizzi di posta elettronica all'interno di questo programma senza doverti collegare necessariamente a tutti i diversi fornitori di servizi per andare a consultare ed eventualmente inviare risposte per quel dato indirizzo di posta elettronica andiamo ora a cliccare sul pulsante leggi messaggi per individuare i messaggi che si scaricheranno all'interno di questo programma automaticamente il sistema li cercherà sul server del sito e come puoi vedere in rapida successione saranno in visione i messaggi che sono giunti al sito thegoodry.com cliccando sull'email avrai l'opportunità di leggere nella zona inferiore il suo contenuto qualora tu volessi inviare un messaggio di posta elettronica clicca sul pulsante scrivi si aprirà una nuova finestra nella quale potrai scrivere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario simuliamo come la volta scorsa un invio al sito nell'oggetto scriveremo messaggio di prova e nel testo confermeremo la scritta messaggio di prova se tu vuoi inviare un allegato a questa email clicca sul pulsante qui accanto e selezionando l'opzione file andrai ad individuare tramite il programma esplora risorse il file che dovrai allegare a questo messaggio che può essere un documento una foto o qualsiasi altro tipo di messaggio ricorda soltanto che hai un limite di invio che potrai anche superare per mezzo di alcuni siti che ti mettono a disposizione l'invio di messaggi con file allegati molto grandi non è difficile trovare questa opzione anche all'interno del sito del fornitore del servizio dal quale hai creato il tuo indirizzo di posta elettronica comunque una volta terminata la scrittura del messaggio ottimizzandone anche la trascrizione in base alle tue esigenze clicca sul pulsante invia dopo qualche secondo il messaggio sarà inviato pressoché immediatamente lo noterai in visione sul pulsante posta in arrivo ti comparirà un'anteprima tramite una finestra proprio in diretta ho ricevuto un nuovo messaggio da una piattaforma che utilizzo per la gestione del sito comunque dicevo cliccando sul pulsante tutti i messaggi potrai visionare il messaggio che c'eravamo inviati l'ordine dei messaggi può essere anche variato cliccando sulla colonna dell'intestazione o di oggetto o del mittente o della data come hai già ben visto quando è stato descritto il programma esplora risorse supponiamo di volerla ordinare in base alla data di ricezione clicchiamo sulla colonna data e avremo un ordine di visione del messaggio dal più recente fino al più lontano per poter cancellare un messaggio sarà sufficiente selezionarlo e premere il tasto cance sulla tua tastiera il file sarà indirizzato nel cestino che potrai eliminare definitivamente oppure ripristinare qualora tu avessi commesso un errore nella rimozione cliccando infatti con il pulsante destro si genera un menu e individuando il pulsante sposta in andando sull'account dell'indirizzo email potrai decidere di inviarlo dove meglio credi come ad esempio nella posta in arrivo se lo vuoi eliminare definitivamente potrai selezionarlo e cliccare sul pulsante qui in basso a destra elimina o tramite il tasto cance sulla tastiera una volta che è terminato sarà sufficiente cliccare sul pulsante X per chiudere il programma vediamo come configurare un client di posta elettronica all'interno del programma opera browser nella sezione in alto trovi la lista della barra dei menu clicca sul pulsante strumenti e di nuovo sul pulsante account di posta elettronica il programma ti notifica che è necessario creare un account di posta elettronica cliccando su sì potrai in questo caso naturalmente decidere di selezionare il pulsante email per creare un account di posta elettronica in questa zona scriveremo dei dati che già tu ben conosci come nome ed indirizzo di posta elettronica del sito nell'organizzazione potrai decidere di scrivere ciò che è meglio credi in questo caso scriviamo proprio the good andando avanti andremo a terminare la configurazione scrivendo la password di accesso e selezionare il protocollo IMAP visto che in precedenza il programma Thunderbird aveva individuato questo protocollo per la gestione delle mail in questa sezione dovremo selezionare i parametri relativi alla gestione della posta di google che per quel che riguarda la gestione sono imap.googlemail.com mentre per l'invio è smtp.googlemail.com clicchiamo su fine e avremo configurato l'account di posta elettronica cliccando su strumenti possiamo accedere all'indirizzo di posta che abbiamo appena creato cliccando su modifica potremmo visionare i parametri ed eventualmente cambiarli qualora ci fossero dei problemi infatti in questo caso la porta di gestione è 993 come abbiamo visto per quel che riguarda la configurazione su Thunderbird mentre il parametro della porta in uscita è 465 clicchiamo su ok e andiamo a visionare la posta cliccando su questo pulsante potremo accedere al pulsante di controllo dell'invio della posta e vediamo che c'è ancora un errore andiamo ad individuare le credenziali di accesso il nome utente è incompleto l'indirizzo l'indirizzo ricordiamo è info chiocciadecudry.com scriviamolo completamente clicchiamo su riprova e vediamo se riusciamo a scaricare la posta ecco qua l'autentificazione è avvenuta e pian piano tutti i messaggi di posta elettronica saranno scaricati all'interno del client andando a cliccare su messaggi ricevuti o da leggere avremo in visione i messaggi ricevuti e che saranno ancora da leggere per scrivere un messaggio di posta elettronica all'interno del browser opera sarà sufficiente cliccare su componi nella maschera che si aprirà dovrai come sempre inserire i parametri relativi al destinatario e ad eventuali altri destinatari mandando in visione tutti gli indirizzi di posta elettronica nel campo cc oppure oscurandoli inserendo gli indirizzi di posta elettronica nel campo bcc nell'oggetto scriverai il tema del messaggio e all'interno del corpo centrale potrai scrivere il messaggio che dovrai inviare al termine sarà sufficiente cliccare su invia e il messaggio sarà inviato concludo questa interminabile sequenza di nozioni rimandandoti alla consultazione di una pagina web che riporta una lunghissima lista di configurazioni possibili in relazione ai parametri che dovrai proprio inserire all'interno di un client di posta elettronica o all'interno del tuo dispositivo mobile per la lettura dei messaggi sul sito Sandro di Remigio troverai appunto questa interminabile lista di configurazione lasciami a questo punto ringraziare per queste informazioni che mettono a disposizione in maniera del tutto gratuita la relazione free online il grandissimo Robby Good e l'ingegner Sandro Di Remigio proprio per l'eccellente lavoro di condivisione e di epilogo che hanno fatto bene alla prossima lezione per continuare con un nuovo flusso didattico sulla conoscenza di computer ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima